Buongiorno a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video, undicesimo video della serie Acronimi Informatici. Ricordo che di norma in questi video sono presenti due parti, una prima parte audio con il contributo di qualche immagine e una seconda parte video, tutto comunque all'interno dello stesso unico video. Allora, oggi parliamo della B.S.O.D., che è l'acronimo di Blue Screen of Death, che in italiano significa schermata blu della morte. Come ci suggerisce l'acronimo stesso, è una schermata blu che compare sul monitor quando si verifica un errore grave, un errore critico. Ora, cerchiamo rispondendo a qualche domanda di capire, seppur superficialmente, alcune caratteristiche della schermata blu della morte. Prima domanda, quando? La schermata blu della morte si presenta, come detto poc'anzi, quando si verifica un errore grave, che può coinvolgere l'hardware o il software nel PC. Le cause possono essere veramente molteplici. Come hardware, per esempio, potremmo citare un errore dovuto ad un componente che presenta qualche problema. O come software, per esempio, un errore di driver. Adesso vi citerò alcune cause frequenti, ma ripeto, solo alcune. Per esempio, incompatibilità di driver, RAM difettose, conflitti, registro di sistema danneggiato, impostazioni del BIOS non corrette, problemi di alimentazione. Ecco, queste alcune delle cause. Seconda domanda, dove? La schermata blu della morte è tipica dei sistemi operativi Windows. Tuttavia, vi sono, anche in altri sistemi operativi di altri marchi, delle schermate che segnalano degli errori. Ma anche in alcuni sistemi operativi di casa Microsoft, le schermate blu della morte possono leggermente differire. Per esempio, nelle versioni beta dei sistemi operativi Windows, è possibile che compaia una schermata rossa della morte, anziché blu. Infatti, viene chiamata R.S.O.D., Red Screen of Death. Terza domanda, come? La schermata blu della morte compare in maniera improvvisa, per esempio quando il computer va in crash, che di fatto è un blocco improvviso di un programma. È un errore molto fastidioso in quanto, improvvisamente, può comportare la perdita di tutto il lavoro non salvato e il riavvio forzato del sistema. Come risolvere, quarta domanda, o perlomeno alcuni suggerimenti. Allora, quando compare la schermata blu della morte, troveremo al suo interno delle informazioni che servono proprio ad identificare la causa dell'errore. In particolare, da porre attenzione a due voci, oltre che comunque alle altre informazioni generali che ci forniranno dei suggerimenti. La prima voce, alla quale è importante porre attenzione, è, potremmo dire, la spiegazione dell'errore. Per esempio, se troviamo scritto DataBusError, significa che questo tipo di errore fa riferimento alle RAM. La seconda voce, invece, è importante, è un codice con solitamente prefisso 0x. Poi, conoscendo queste informazioni, potremo cercare il riscontro su internet. Anche la Microsoft ha redato una lista di alcuni codici ai quali si può fare riferimento per trovare, diciamo, la causa del nostro errore. Ora continuiamo con la seconda parte di questo video e vediamo concretamente una schermata blu della morte. Eccoci, ritornati per la seconda parte di questo video. Ci troviamo davanti ad una schermata blu della morte generata manualmente. In un altro video trovate come generare manualmente una schermata blu della morte. Vi aggiungo che se la volete far durare per più tempo, come in questo caso, bisognerà togliere il review automatico. Allora, diciamo così, dividiamo questa schermata in tre parti. Questa è la prima parte, tutta questa è la seconda e questa è la terza. Allora, nella prima parte ci viene descritto brevemente l'errore, appunto, che, diciamo, ha causato questo crash, no? Questo crash. In questo caso, vedete, l'utente finale ha generato manualmente questo crash. In effetti è stato proprio così. Qui ci viene spiegato, ci vengono dati alcuni consigli, diciamo, per far fronte a questo problema. E qui, invece, le informazioni tecniche. In particolare avete visto il, diciamo, come ho detto prima, quel codice con prefisso 0x. Ecco, se noi poi confronteremo, ecco, questo codice, cercheremo riscontro su internet, troveremo, appunto, diciamo, le informazioni che ci suggeriscono a che cosa è collegato, ecco, questo errore. Quindi, anche per questo video è tutto. Vi ringrazio per aver guardato questo video. Un saluto a tutti, un ringraziamento particolare agli iscritti. e al prossimo video.